Musica Ciao ragazze, ciao ragazzi e allora oggi inizio a filmare questo video ho fatto questo video della mia cabina armadio non ho mai filmato un video nella mia cabina armadio ma l'altro giorno stavo risistemando le mie borsette e vi ho messo una foto su stories di come le avevo appunto ricollocate, risistemate nella mia cabina armadio e ho ricevuto centinaia, centinaia, centinaia di messaggi in cui mi dicevate Nicole fai il video sulle tue borse aggiornate, fai il video e vogliamo vedere tutto quindi questo è appunto il video che mi avete richiesto, perché leggo sempre tutti i vostri commenti, tutte le vostre richieste me le appunto, non sto scherzando faccio gli screenshot, mi appunto tutto e quindi avevo in programma sinceramente di fare un video all con gli acquisti che ho fatto a Parigi e altre cosine che ho acquistato, però prima volevo fare questo video perché ho visto che è super 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 richiesto anche perché avete ragione non avevo in mente di fare un video aggiornato sulle mie borsette, però ho pensato che effettivamente dall'ultima volta che vi ho fatto il video sulle mie borsette, cioè un anno fa forse più di un anno fa, eravamo ancora nella vecchia casa, mi sono nel frattempo mi sto togliendo le ciabatte notare le mie ciabatte per niente imbarazzanti e molto fighe e molto fashion ok, effettivamente ne ho comprate tante dall'ultimo video che ho fatto, quindi c'era veramente bisogno di un aggiornamento iniziamo con lui questa è la mia speedy, credo sia la 35 di Louis Vuitton il mio boletto inizialmente, lo sapete, avevo il 25 oddio, io non sono bravissima con le cifre credo fosse il 25, quello più piccolino che è stata il mio primo vero la mia prima vera borsa di lusso però mi è stata rubata come ben sapete, ne ho già parlato diverse volte e quindi poi sono andata a ricomprarlo e siccome volevo una borsa un po' più capiente alla fine ho preso la 35 sono molto contenta di aver ripreso ricomprato questa borsa che tra l'altro si è già abbastanza devo dire la pelle è già diventata molto più scura sono contenta perché la posso usare quando ho bisogno di tanto spazio e ci sta davvero il mondo dentro poi, altra borsa è questa la mia Chanel Jump questa è la Classic Double Flap perché ha il doppio flap che sarebbe questo è la Classic in grandezza però jumbo, non è la medium quella semplice è un attimino più grande io, lo sapete, sono alta 1,77 quindi ho bisogno di una borsa da ogni giorno che sia proporzionata a me non so come spiegare e questa, secondo me, è perfetta amo questa borsa ed è forse la borsa che indosso di più assieme alla Boybel che vedremo dopo ed è, beh, sì, è fantastica questa è un'altra borsa che è un vero e proprio investimento perché ci sarà sempre è un classico e continua a salire di prezzo in modo esorbitante ha la tasca qui sul retro è molto, molto capiente vi faccio vedere molto capiente ed è in pelle caviar ci sono due beh, ci sono diversi tipi di pelle da Chanel i due tipi i due generi sono caviar e lampskin caviar e quella con i pallini non so se si riescono a vedere da questa distanza ma è la più resistente siccome questa l'avevo presa proprio come borsa da tutti i giorni volevo che fosse super super resistente e lo è devo dire la uso abuso strauso ed è sempre perfetta l'altra borsetta è questa anche questa è una Chanel questo è hardware ruthenium ed è metà quilted e metà chevron quindi è metà a quadratini metà a questa fantasia a righe questo è un wallet on chain tutte le Chanel che vedete che sono piccoline cioè che hanno questa grandezza sono dei wallet on chain quindi loro li chiamano portafogli a catena su catena e effettivamente hanno appunto la catena si possono indossare tutti e tutti quanti sia a tracolla che a spalla sono tutte parecchio lunghe le borse Chanel il che mi rende estremamente felice perché su di me che sono così alta moltissimi altri brand fanno borse che sono troppo corte e all'interno è un classico wallet on chain questa era una seasonal bag significa che non sono i classici che vengono riproposti sono sempre disponibili questa era mi sembra del 2014 2015 c'è gatto del verco fuori del 2014 o del 2015 poi altra borsa che ho acquistato appunto credo ad inizio no era fine 2014 ho acquistato la pochette Saint Laurent non so il nome di questa borsa è stato un caso che io conosca i nomi delle borse che vi ho fatto vedere fino ad ora perché per la maggior parte credo di non sapere io se vedo una cosa che mi piace la compro non mi informo tanto su nome e robe del genere su collezioni e robe del genere comunque questa è la classica pochette Saint Laurent ce l'ho da un sacco di tempo e l'ho utilizzata tantissimo l'hardware è dorato ed è appunto ha la cinghia lunghissima che indosso sempre così si può indossare però anche a tracolla se non sbaglio ci sta pochissima roba all'interno perché è una piccola pochette c'è gatto Denver scusatevi ma sta girando in giro per la cabina gatto Denver vieni qua del river sta guardando fuori dalla finestra non so che cosa sta vedendo e questa è una borsa appunto ovviamente da sera ho comprato questa borsa proprio per serate un po' più speciali con degli outfit un po' più eleganti e mi piace tantissimo le adoro poi altra borsa è questa che è di Prada questa l'ho presa all'outlet e l'ho pagata tipo il 60% in meno rispetto al suo prezzo originale ha anche la tracolla tra l'altro questa borsa però non ho idea di dove sia peccato perché mi piacerebbe indossare la tracolla questa è la borsa preferita in assoluto di Tomas devo dirvi la verità credo di avervelo già detto ve l'ha detto lui perché lui stravedda per questa borsa ogni volta che la indosso mi dice è la più bella che hai e tra l'altro è una delle borse che mi sono costate meno appunto perché l'ho presa all'outlet della collezione della stagione prima ed è in pelle estremamente estremamente morbida è un pochino seghi quindi non mantiene la forma ma mi piace ed è appunto super super morbida anche questa però super super resistente hardware dorato ed è molto molto capiente io qua all'interno ho un sacco di roba tipo la gopro che non trovavo da tantissimo tempo comunque è super super capiente ed è anche molto molto comoda e l'ho presa all'outlet di Eindhoven nei paesi bassi poi c'è la selina la mia prima selina è stata questa e se non sbaglio si chiama phantom anche questa l'ho presa per viaggiare perché è super super capiente davvero ci sta il mondo qua dentro a parte che è piena di glitterini e non è neanche pulitissima comunque sorvolando amo questa borsa proprio perché è appunto estremamente estremamente comoda è l'unico problema un po' di tutte le selina di una certa grandezza che sono estremamente pesanti quindi cerco sempre di non riempirla troppo perché è una pelle molto molto pesante inizialmente volevo la luggage tote quella semplice che è comunque molto molto simile non l'ho trovata nera non l'ho trovata di questa grandezza quindi ho preso la phantom c'è questo che è un altro wallet on chain di Chanel questo l'ho preso a Parigi e purtroppo ha dei piccoli segni qui sul retro che non ho idea da dove vengano probabilmente dai jeans indossandola so che questo tipo di pelle laccato è molto delicato e quindi devo stare un attimino più attenta per fortuna sono dei segni piccolini però insomma almeno mi sono reso conto di dover ci fare un po' più di attenzione questa l'ho presa a Parigi ero da sola per lavoro a Parigi sono andata a fare un salto da Chanel ho trovato una ragazza lì che ci lavora che era è super 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 simpatica e quindi mi ha offerto lo champagne e quindi ero lì da sola poco prima del mio compleanno o poco dopo e quindi mi sono fatta questo autoregalo di compleanno ed è stata un'esperienza molto molto bella che ho nel cuore perché mi sono trovata benissimo con lei ho trovato questa borsa che lo sapete io amo il rosa e quindi un po' un segno di indipendenza essere lì da sola e comunque sono scegliere champagne e farmi un bel regalo ed è appunto un wallet on chain anche questo però questo è quilted quindi con il classico con la classica fantasia a quadretti e con hardware argentato come tutti i wallet on chain ha la catena e può essere indossato sia a spalla che a tracolla poi c'è questa che è una mini anche questa è di Chanel l'hardware di questa è color champagne che è una via di mezzo tra l'argento e il dorato quindi è un oro molto molto chiaro che si può indossare benissimo sia con accessori dorati che argentati questa non è in pelle è una borsa in tessuto quindi costa anche meno rispetto alle borse in pelle di Chanel sono però molto delicate quindi bisogna stare un attimino attenti a quando le usiamo questa è una mini rettangolare ci sono anche le mini quadrate ne ho una ve la farò vedere dopo questa è una mini rettangolare da notare che le mini rettangolari possono essere usate a tracolla mentre le mini quadrate no perché è troppo corta all'interno ovviamente c'è la cinghia io le metto sempre via così con la con la tracolla all'interno in modo che si conservi meglio la forma questo è l'interno ci sta ovviamente più roba rispetto a un wallet on chain ma insomma un piccolo beauty case cellulare chiave di casa un piccolo portafoglio magari solo con bancomat carte di credito e questo è quanto però amo la forma di questa borsa unica cosa per via del colore che è un pochino più particolare e anche del tessuto che tendo ad indossare un pochino più in inverno non la uso moltissimo il che mi dispiace perché è una borsa bellissima però sto pensando di venderla perché non appunto quando compro delle borse di un certo di un certo prezzo anzi non solo per le borse per qualsiasi accessorio valuto sempre se lo uso abbastanza se una cosa non la uso abbastanza di solito la vendo e il bello di queste borse di questi marchi è che di solito ci guadagni su non solo riprendi il valore il prezzo che tu hai speso ma ci guadagni perché anche questa io l'ho presa ad inizio 2015 quindi sono passati tre anni Chanel nel frattempo ha avuto sei aumenti una cosa del genere quindi il prezzo di questa borsa si è quasi raddoppiato quindi se la vendo comunque vado a guadagnarci poi c'è questa che è una borsettina vintage non so come si chiama il modello non è un wallet on chain credo sia degli anni 80 se non sbaglio quindi è tipo più vecchia di me questa borsetta l'ho trovata in questo negozietto vintage a Cortina dove vado spessissimo la adoro è in perfette condizioni io l'ho usata tantissimo ed è ancora perfetta è una borsa bellissima che io uso quando vado a teatro quando ho una serata importante un evento importante ed è appunto tutta dorata è molto molto shiny è molto molto lucida e ha anche appunto l'arbre dorato questo è l'interno quindi ovviamente ci sta davvero soltanto il cellulare se avete il plus non ci sta manco quello ci sta soltanto il cellulare qui all'interno è fatto con questi bottoncini e si ci sta il cellulare un rossetto e un bancomat è forse la chiave di casa non tutto il mazzo ma la chiave di casa ma è bellissima poi c'è un'altra jumbo questa è bianca è in lampskin quindi è il tipo di pelle un pochino più delicata rispetto al caviar stessa identica forma della mia jumbo nera però appunto il tipo di pelle è diverso e questa ha un hardware color champagne quindi sempre una via di mezzo tra dorato e argentato l'hardware è però opaco mentre su quella verde per esempio piccolina e su quella dorata era lucido amo questa jumbo perché allora questa è stata la borsa che io ho indossato cioè non l'ho proprio indossata ovviamente il giorno del mio matrimonio perché non potevo avere la borsa con me però questa era la borsa che ho portato alla cena e la borsa che avevo nella macchina con tutti i miei essentials per quella giornata devo assolutamente mandare questa borsa alla spa di Chanel ancora non l'ho fatto perché ha diversi cioè è parecchio sporca però l'ho comprata vintage anche questa l'ho presa a cortina l'ho presa vintage perché ci ho risparmiato un sacco ma è in perfette condizioni è un po' sporca quindi è da pulire ma non so non è danneggiata e ho fatto un affarone con questa borsa anche qui la catena si può indossare sia a spalla che a tracolla poi c'è lei che è la Monster Bag di Fendi ho fatto un po' un errore allora anche questa l'ho presa a cortina non nel negozio vintage però questa non è una borsa vintage è una borsa sicuramente super super resistente e molto anche capiente perché ci sta parecchia roba all'interno solo che è una borsa che secondo me è stata un po' uno sbaglio perché anche la tracolla tra l'altro è molto comoda il problema di questa borsa è che riesco ad abbinarla poco quindi la indosso poco e quindi mi sono pentita di averla presa ho cercato di venderla e non riesco a venderla per il prezzo che vorrei mi vengono fatte offerte troppo basse che quindi io non accetto puntualmente e quindi preferisco tenerla piuttosto che rivenderla per un valore troppo basso molto sì è molto particolare molto giocosa molto carina primaverile estiva come borsa ma tendo appunto ad indossarla troppo poco poi c'è la mia Valentino questa in realtà l'ho presa prima di molte altre che vi ho fatto vedere ma mi era sfuggita ed è la mini non so come si chiami sinceramente è la Rockstad in versione mini la più piccolina qui anche qui ci sta pochissima roba ma mi piaceva l'abbinamento di questo tipo di rosso con l'hardware platino che ha Valentino anche questa si può usare sia a tracolla che a spalla ed è secondo me molto carina il tipo di pelle è molto morbida l'unica cosa è molto delicata perché qualsiasi segno qualsiasi cosa poi si vede su questa borsa ma infatti alcuni segni si vedono perché la uso molto ma sì è una borsa che tendo ad utilizzare non necessariamente di sera ma magari ad eventi un pochino più particolari anche perché non ci sta tantissima roba qui all'interno si aprono così e questo è quello che ci sta c'è una taschina interna e poi così e l'ho presa oddio ah sì questa l'ho presa online dal sito valentino.com nel è stato il mio autoregallo per Natale a Natale 2015 a Natale 2015 poi c'è questa che è un'altra Saint Laurent questa ha tutte queste stelline argentate anche l'hardware è argentato e anche questa la indosso quasi sempre a tracolla si può indossare anche a spalla questa è parecchio più grande rispetto alla pochettina che vedete lì che insomma può tenere pochissima roba qui ci sta parecchia roba non mi sta il portafoglio grande insomma cellulare tutto quello di cui ho bisogno ovviamente il beauty case con pochissime cosine però ci sta davvero tantissima roba è in velluto quindi è molto delicata in più ci sono queste stelline argentate e tende a consumarsi molto molto in fretta io l'ho usata l'ho usata spesso devo dire la verità l'ho usata spesso ma non non ho abusato di lei sono stata attenta e comunque si vedono i segni quindi se volete prendere una Saint Laurent di di questo modello io vi consiglio di prendere quella in pelle lucida rigida piuttosto che quella in velluto perché sono borse da usare solo in qualche determinata occasione non da tutti i giorni altrimenti si rovinano in un 448 forse questa è quella che più si è rovinata con poco uso però è una borsa bellissima anche questa però è un modello stagionale le stelline sono state un modello non dell'inverno scorso ma di quello prima e anche questa l'ho presa a cortina poi un'altra borsetta io la considero borsetta perché effettivamente si può portare con la tracolla e può essere una borsetta a tutti gli effetti anche se è piccolissimissimissima e la uso più che altro come portachiavi da appendere appunto alla mia monster bag o ad altre borsette un pochino più grandi utilizzando questo gancetto tolgo la tracolla utilizzo solo questo gancetto e la applico praticamente al manico della borsa secondo me allora sì è Fendi e l'ho presa all'outlet di Venezia anche questa l'ho pagata tipo 60% in meno una roba del genere e ne avevano tantissimi ne avevano veramente tantissimi di questi piccoli pouch di queste piccole pochettine secondo me sono molto carine dando un tocco di più a un outfit anche se appunto sono secondo me un po' più primaverili un po' più estive arriviamo alla boy bag Chanel questa lo sapete la conoscete allora a parte che in videocamera risulta sempre un pochino più arancio di quello che è in realtà perché dal vivo è un colore nude tan questa l'ho presa a Los Angeles non mi aspettavo di trovarla a Los Angeles quando l'ho vista me ne sono follemente follemente innamorata è stato amore a prima vista oltre per ovviamente per la boy bag che inizialmente quando è uscita tipo nel 2003 non mi piaceva e poi invece ho iniziato davvero davvero a piacermi tanto sia come forma che come stile mi piace un sacco la chiusura un pochino più rock mi piace un sacco la catena e questo colore mi ha colpito subito perché era un colore che nessuno nessuno aveva poi c'è la mia prima Lady Dior anche questa è in versione mini credo si chiami mini e la Lady Dior è in pelle laccata lucida di questo bellissimo blu ha anche la tracolla all'interno che è sempre dello stesso identico colore questa borsa devo essere sincera ho provato a venderla ma ho ricevuto offerte troppo basse e quindi le ho rifiutate preferisco tenere la stessa identica cosa adoro la forma e lo stile di questa borsa ma purtroppo per il colore che ha la uso troppo poco appunto sempre per lo stesso discorso se è una cosa di lusso la uso troppo poco preferisco rivenderla non voglio tenere roba che poi non utilizzo mi piace usare tutto quello che ho tutto quello che compro non appunto non non mi piace che una cosa resti lì nell'armadio senza indossarla e questa quindi devo sforzarmi ad utilizzarla devo cercare di abbinarla un attimino di più con i miei outfit perché purtroppo appunto essendo di questo colore blu che sembra facile ad abbinare ma non lo è tendo ad usarla troppo poco ma devo assolutamente usarla di più ed è è appunto la classica Lady Dior in versione piccolina è bellissima ricevo sempre un sacco di complimenti in realtà quando la indosso e questa l'ho presa dalla mia SA di fiducia a Venezia da Dior shout out ad Anna che è sempre fantastica e mi trovo sempre tutto quello che voglio ed è super disponibile e so che seguo i miei video quindi grazie grazie se mi stai vedendo in questo momento ti mando un bacione e quindi sì continuo ad ad adorare questa borsa devo soltanto impegnarmi ad utilizzarla un attimino di più poi c'è lei e la mia alma Louis Vuitton ha questa forma inconfondibile un pochino più larga sotto un pochino più assottigliata sopra questa forma triangolare ed è appunto di questo color bordeaux vinaccia che adesso con la luce forte che ho davanti a me si vede ma dal vivo purtroppo sembra un pochino più scura sembra quasi nera e l'ho presa appunto perché cercavo una borsa bordeaux una borsa di questo colore quando ho trovato questa da Louis Vuitton sono impazzita perché è bellissima avevo il dubbio se prendere questa quella la versione un pochino più piccola la versione più piccola aveva la tracolla questa no ma alla fine sono contenta di aver preso questa perché è molto molto più capiente rispetto all'altra poi c'è un'altra di Saint Laurent anche questo credo si chiami un wallet on chain o comunque un portafoglio a catena è piccolino ed ha appunto la catena lo porto sempre a tracolla anche questo l'ho preso per le occasioni un pochino più importanti per le serate perché ci sta poco ed è molto elegante essendo così piccolino mi piace che abbia questo spirulicchio che non so mai come chiamare ed è in hardware dorato anche questo è estremamente estremamente delicato infatti ha già tipo un piccolo piccolo segno del ha tipo un piccolo colpetto piccolino che lo vedo solo se mi avvicino ma io sono super perfezionista quindi sto molto attenta però è bellissimo perché essendo di questo colore beige nude riesco davvero ad abbinarlo con tutto poi c'è la mia Dionysus di Gucci una delle mie Dionysus ne ho due questa è la versione mini e anche questa la indosso spesso a tracolla il primo periodo allora questo è stato il regalo di primo anniversario di Tomas e me l'ha regalata quando siamo stati alla boutique Gucci di Venezia l'ho scelta io e questa inizialmente la indossavo poco per via del colore perché essendo così gialla io la volevo marrone ma non c'era in boutique quel giorno in questa taglia e poi mi son detta no prendiamola di un colore un pochino diverso cerchiamo di smuovere un po' e di cambiare e quindi l'ho presa con i dettagli gialli quindi c'è la pelle gialla all'interno in questo doppio flap e ovviamente ai lati e sotto e in realtà quest'anno l'ho indossata tantissimo ho comprato maglioncini di questo colore l'ho abbinata un sacco ad altre cosine di questo colore e mi diverto ad abbinare sia il grigio marroncino del logo che il giallo e alla fin fine sono super 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 contenta di questo regalo poi arriviamo a quelle un pochino più recenti qui c'è la mia seconda Dionysus e questa è in velluto tutta tutta in velluto senza logo ma è di questo stupendo 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 colore verde acqua acqua marina e io mi sono innamorata follemente di questa borsa quando l'ho vista sui vari social su varie foto non ci potevo credere che esistesse una borsa così bella di questo colore talmente splendido e poi senza il logo è anche un pochino più particolare perché appunto è una borsa difficile da trovare specialmente in questo colore sono impazzita letteralmente per trovarla ovviamente online era impossibile sono andata questa l'ho presa a Milano l'ho trovata a Milano sono andata nel negozio di via Monte Napoleone e anche lì mi hanno detto no è impossibile non la troverai mai e poi sono andata a controllare nel sistema io ero sicura che prima o poi l'ho ritrovata sono andata a controllare nel sistema mi fa dovrebbe esserci alla rinascente vai e quindi io seduta stante sono andata alla rinascente e l'ho trovata era lì era in esposizione ma poi ne avevano anche un'altra nuova dietro insomma in magazzino e quindi l'ho presa subito allora questa è un'altra Chanel questa però è la Medium che è la taglia un pochino più piccolina della Jumbo come Medium che è la classica alla fin fine o soltanto questa perché credo che sudimestia meglio la Jumbo questa però in questo colore in tessuto è sicuramente insomma ho preferito prenderla in versione Medium anche questa si può indossare sia a tracolla che a spalla è la classic come forma quindi taschino sul retro e aiuto e credo abbia anche questa è Double Flap assolutamente sì anche questa l'ho presa vintage in realtà è di pochi anni fa e credo che la persona che me l'ha venduta non l'abbia praticamente utilizzata perché è nuova è nuova non ha un segno di usura cioè è nuova ho fatto un super 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 affare quando ho comprato questa borsa la adoro un altro acquisto relativamente recente è stato dell'anno scorso ed è il mio zainetto Chanel questo è un classic nella forma nel colore nel hardware che è dorato credo però che sia sì non è dorato è champagne quindi un po' quella via di mezzo un dorato un pochino più chiaro amo questo zainetto lo indosso tantissimo è una delle mie borse più usate perché è super super pratico non ho preso la versione più grande perché non mi piaceva la trovo un pochino troppo allungata questo è un pochino più carino come come forma e sono felicissima di aver preso questo perché ci sta comunque tantissima tantissima roba ci sta il mondo dentro questo zainetto e poi è stupendo si può indossare ovviamente sia come zainetto lo uso di solito solo su una spalla oppure a mano così è bellissimo è bellissimo e questo l'ho preso ad Amsterdam appunto l'anno scorso ma io sto cercando di andare veloce perché secondo me questo video sarà lungo due ore scusatemi davvero ma mi avete chiesto voi quindi cioè me l'avete chiesta voi questa collezione quindi sapevate che sarà un video infinito poi c'è la mia Celine nano questa è la Celine piccolina credo anche questa di averla presa ad Amsterdam anzi sono così sicura di averla presa ad Amsterdam questa la indosso sempre 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 la tracolla è piccolina da vedersi ma ci sta davvero il mondo qui c'è il pozzoletto facciamo finta di non aver visto il pozzoletto ci sta davvero il mondo ed è bellissima ha questa classica forma ed è morbida come pelle è stupenda l'adoro sia come colore perché la uso con tutto è di questo beige che veramente va con tutto e adoro la forma adoro che sembri una faccina perché ha gli occhi la bocca e la lingua e ragazzi ho dovuto letteralmente cambiare videocamera perché ho consumato tutta la batteria della mia videocamera quindi sto filmando con quella dei vlog continuiamo con lei che è la mia prima ed unica per ora per ora borsa Givenchy questa è la antigona è in pelle lucida avevo il dubbio se prendere quella opaca oppure quella lucida poi ho deciso per questa ha anche questa specie di tracollina che ti permette di utilizzarla a spalla ma io la uso quasi sempre a braccio così è bellissima è molto rigida ci sta davvero tantissima roba tiene benissimo la forma le mie borse sono sempre piene di schifezze per qualsiasi per qualche motivo non so perché comunque è super 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 pratica anche questa la sto usando tantissimo arriviamo a lei questa è una delle mie borse preferite è una delle borse che uso di più è la mia boy bag nera con hardware dorato questa è una borsa super 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 difficile da trovare e questa l'ho presa ad Amsterdam credo fosse il 2017 quando l'ho trovata non ci potevo credere perché è talmente difficile da trovare in questa combinazione cioè nera con hardware dorato che c'è gente in lista d'attesa per mesi io sono capitata in boutique ed era lì era lì l'ho provato ho provato sia questa che la misura più piccolina beh lo sapete ve l'ho raccontato nel video haul non ci potevo credere l'ho presa subito una delle ultime borse che ho preso è questa che è la Lady Dior in pelle morbida opaca e di questo colore perlato questa in realtà è leggermente perlata non è proprio opaca ce n'era un'altra più opaca questa è leggermente perlata però in pelle morbida questa è una borsa che io uso esclusivamente per la sera ed ha all'interno anche la tracolla che però non è dello stesso colore è in catena ha soltanto qui un dettaglio in pelle come il resto della borsa queste borse sono stupende le Lady Dior sono come forma come insomma con questi dettagli sono secondo me tra le borse più belle che si possano comprare anche questa l'ho presa nella versione piccolina perché non c'era un pochino più grande c'era la versione leggermente più grande ma non era perlata era più opaca e devo dire che questa la preferisco anche questa è una di quelle borse che per una serata non sbagli mai poi ah sì poi c'è lei da non dimenticare è di Chanel non si vede che è di Chanel e questo mi piace ma si vede qua sotto perché ha il logo con la doppia C su entrambi i lati e poi c'è disegnato anche da qualche altra parte è una borsa da mare lo sapete l'ho utilizzata un sacco quando siamo stati alle Maldive praticamente tutto il mese di gennaio e ah no l'ho comprata poi quando stavo andando la seconda volta alle Maldive quindi l'ho usata la seconda volta è super 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 capiente non sto neanche a dirvelo si vede è gigantesca ed è bellissima poi c'è lei questa è di un brand che io non conoscevo si chiama Cute Circuit e questo è stato un mega mega regalo di Benefit lo sapete sono stata alle Maldive con Benefit all'interno c'è la catenella aiuto voi mi direte ma che cosa ha di speciale questa pochette non ci sta niente all'interno confermo ovviamente come tutte le pochette ci sta davvero pochissima roba l'indispensabile per una serata fuori la figata di questa borsa è che si illumina e che la scritta che compare la scegli tu niente volevo troppo farvi vedere però purtroppo è scarica devo caricarla e quindi devo appena attaccarla al cellulare non riesco a farvela vedere in questo momento ma se mi avete vista alle Maldive nel vlog si ve l'avevo fatta vedere accesa poi c'è lei che non è l'ultima borsa che ho presa perché ne ho comprata un'altra che vi devo far vedere che è l'acquisto di Parigi appunto nel prossimo video lo vedrete tutto ma lei è la penultima borsa che ho comprato ed è la pochette metisse se non sbaglio l'ho presa a Parigi non l'ultima volta appunto ma la volta prima in cui sono stata a Parigi ed è di Louis Vuitton ha la tracolla e quella qua oh all'interno tra l'altro c'è il rossetto che stavo cercando di mesauda amo questa borsetta perché uno ci sta un sacco un sacco di roba un sacco questo non è un pezzoletto sporco ci tengo a specificare è la salviettina dei miei occhiali e c'è e ci sta davvero il mondo è bellissima è bellissima secondo me è super 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 pratica appunto l'unica altra Louis Vuitton che ho con questa fantasia è il bauletto grandissimo che uso alla fine solo per i viaggi quindi questa invece la uso come borsa di ogni giorno oltre alle tasche interne anche questa cerniera sul retro non la uso mai utilizzando questo manico qui la lascio piatto sulla borsa la utilizzo sempre come tracolla e la trovo stupenda e niente ragazzi e ragazze questo è tutto per la prossima volta per la prossima borsa che ho preso guardate il video all'in arrivo nei prossimi giorni spero che questo video non sia troppo lungo perdonatemi io mi rendo conto che faccio sempre video lunghissimi tra l'altro mi sono reso conto che per metà video ero super 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 lucida perché ormai sono tipo le otto e mezza di sera quindi il mio trucco da stamattina non era più perfetto quindi però non mi aspettavo che durasse talmente tanto questo video cioè non mi aspettavo pensavo fosse più veloce mi sto rendendo conto di avere più borse di quanto pensavo evidentemente grazie se siete arrivati fino a fine video se l'avete visto tutto fino alla fine commentate batti 5 perché siete rimaste là costanti bravissime quindi vi ringrazio tanto ancora vi mando un bacio grandissimo vi abbraccio fortissimo mia family perché siete davvero speciali io sono tanto contenta di avervi nella mia vita sono tanto 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 felice e sono super super orgogliosa del rapporto che ho con voi perché ci sono tante blogger ci sono tanti youtuber eccetera ma non tanti hanno il rapporto con i follower che ho io quindi io sono molto fiera di ciò e mi rendo sempre più conto che chi mi segue mi è anche molto molto simile siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda sulla stessa energia e questo mi fa davvero tanto piacere grazie ancora mia family bacio grandissimo se non perdo le voci un bacio grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo video ciao 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 Grazie per la visione!